se la stampante ha un display lcd probabilmente ci sarà un'opzione nel menu dei settaggi per mostrare l'indirizzo ip della stampante sullo schermo del display se hai windows vai su pannello di controllo clicca su dispositivi e stampanti fai clic con il tasto destro del mouse sul nome della stampante seleziona proprietà clicca su porte adesso allarga la prima colonna che mostrerà l'indirizzo ip della stampante oppure clicca su web service apri il prompt dei comandi premendo il tasto windows e scrivendo cmd scrivi netstat spazio linetta r premi enter qui c'è una lista completa di tutti i dispositivi di rete connessi al tuo computer è possibile trovare l'indirizzo ip della propria stampante nel portale del router i menu dei router sono tutti organizzati in modo diverso quindi è difficile impossibile dare istruzioni precise comunque troverai le istruzioni nel manuale del router